Prima fila Village People, Tatanka Kass, Shelford Run, Victoria Griffe, Virginia Baba, Ugadena del Sile, Varadero. Seconda fila Via Colvento Tor, Tallaro Tab, Veronica Gette, Viburno, Debuti e anche il Madiba, J-Bay. Rinuncia al lancio, Varadero e Di Galoppo, Ugadena del Sile. Allo stacco della macchina, lottano per il comando Shelford Run e Victoria Griffe davanti a Virginia Baba, che ha scavalcato Tatanka Kass. Lancio per Shelford Run, che va via in 13.6, seguito sempre da Victoria Griffe, poi Virginia Baba, quindi Tatanka Kass all'esterno. Veronica Gette, vittima di errore anche il Madiba, J-Bay e via Colvento Tor. Ritmo notevolissimo, quello imposto da Shelford Run, che acquisisce chiaro vantaggio e va a completare i 600 iniziali in 43.1, seguito a qualche lunghezza da Victoria Griffe, che a sua volta precede Virginia Baba, poi parcheggia quarta Veronica Gette davanti a Viburno, Debuti e Varadero. Diminuisce leggermente il vantaggio di Shelford Run nei confronti di Victoria Griffe, poi Virginia Baba viene affiancata da Veronica Gette, che si trascina a Viburno, Debuti. Poi Varadero, sembra in chiara difficoltà, ora Shelford Run, che è preda di Victoria Griffe. Poi Virginia Baba, ha girata però da Viburno, Debuti e Varadero. Veronica Gette, che prende netto vantaggio. Anche Victoria Griffe sembra preda di Viburno, Debuti e di Varadero. Poi Virginia Baba, ma Veronica Gette sta affrontando con vantaggio abissale la retta d'arrivo, dove Varadero sta rimontando Viburno, Debuti. Poi ancora Virginia Baba, netto primo piano per Veronica Gette, vanamente inseguita da Varadero. Poi Viburno, Debuti. Veronica Gette e Filippo Gallo, che concludono da dominatori davanti a Varadero e Viburno, Debuti. 10, 7, 11, l'arrivo ufficioso della settima di Capannelle sul mio cronometro. 1,598 per Veronica Gette e Filippo Gallo. 1,149 la media al chilometro per Veronica Gette, che passa sull'ultima curva quando va in crisi, prima Shelford Run e poi Victoria Griffe. E si isola al comando per concludere con largo margine su Varadero, ha chiuso la favorita Veronica Gette, 2,12. La vediamo nettissima sul traguardo davanti a Varadero. Per il terzo, il numero 11 di Viburno, Debuti. 10, 7, 11, l'arrivo ufficioso della settima di Capannelle, lì nello studio. Per il terzo, il numero 11 di Viburno, Debuti.